Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLI dove per lavori tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina ci sono 3 km di coda in direzione Livorno e 2 km di coda in direzione Firenze. Code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Con il rientra a scuola degli studenti delle superiori è in atto una nuova fase per quanto riguarda l'organizzazione del trasporto pubblico. Aggiornamenti sui canali social di Muoversi in Toscana. Si ricorda che il numero verde regionale per gli utenti del TPL è 857 05 30. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio!